buongiorno a tutti buongiorno a tutti sono luca discacciati di cambiavalute.ch primo cambio online del ticino nel appuntamento di oggi che abbiamo chiamato currency watch un appuntamento che da oggi renderemo regolare una volta al mese circa andremo a vedere appunto come si sta muovendo il cambio franco svizzero euro e viceversa per capire appunto se è il momento giusto per cambiare insomma per cercare di capire quello che possono essere i movimenti futuri andando a rubacchiare un pochettino di tecniche strategie strumenti che andiamo a chiedere in prestito al mondo della finanza stacco la mia telecamera così vedete il mio schermo siamo sul sito ovviamente di cambiavalute punto ch la primissima cosa che dobbiamo andare a vedere è la stagionalità ne abbiamo parlato nel precedente webinar abbiamo inserito su cambiavalute questo tool comodissimo appunto che è che permette di vedere davvero in pochi click quelle che sono state le tendenze storiche appunto sul cambio euro franco e chiaramente vi ricordo che il cambio euro franco è il contrario rispetto a quello a cui siete abituati voi frontalieri nel senso che voi ovviamente guadagnando in franchi svizzeri siete abituati a ragionare al contrario quindi siete abituati al cambio franchi euro che chiaramente ha un andamento opposto rispetto all'euro franco quindi quando su un grafico dell'euro franco che è quello che utilizzato nel mondo della finanza nel mondo dei cambi interbancari scende significa appunto che il franco svizzero si sta apprezzando ok infatti se andiamo a vedere il grafico dell'euro franco svizzero vediamo appunto che nell'ultimi negli ultimi sedute negli ultimi giorni è sceso cosa significa significa che il franco svizzero ha guadagnato valore nei confronti dell'euro e voi lo sapete bene perché tendenzialmente aspettate proprio questi momenti in cui il franco svizzero guadagna terreno sull'euro per andare appunto a cambiare il vostro stipendio se vi ricordate non so se qualcuno di voi ha partecipato al webinar della precedente volta avevamo appunto detto che da questo livello di 0 95 52 dove ci trovavamo appunto a fine agosto i prezzi avrebbero potuto salire fino a raggiungere il livello di 0 97 0 97 che ragazzi non è stato toccato veramente per pochissimissimo tanto che addirittura in ufficio avevo fatto una scommessa e l'ho persa perché appunto il livello non è stato toccato anche se possiamo comunque considerarci soddisfatti visto che appunto i prezzi ci sono andati vicinissimi e da questo punto appunto i prezzi poi del franco svizzero sono tornati a salire in maniera abbastanza repentina per chi non ci fosse stato nell'ultimo appuntamento perché avevamo detto che i prezzi avrebbero potuto segnare questo rialzo molto semplicemente perché se andiamo a prendere appunto la stagionalità da metà agosto fino ai giorni nostri che cosa ci accorgiamo ci accorgiamo che se appunto andiamo nel nel passato vediamo appunto che tendenzialmente ecco qua dobbiamo scorrere verso il basso negli ultimi cinque anni il 60 per cento delle volte e lo vediamo poi appunto qui anche nei dati dei singoli anni vediamo che nel 60 per cento delle volte in questo periodo effettivamente il franco svizzero è salito nei confronti dell'euro quindi che cosa possiamo aspettarci adesso beh intanto abbiamo visto che questa questo questo momento di salita per l'euro quindi la discesa per il franco svizzero è durata davvero poco perché è durata veramente poco più di una settimana e poi il franco svizzero è tornato a scendere il franco svizzero è tornato a salire la cosa interessante però appunto vedere come adesso proprio a partire dalla da queste sedute che stiamo vivendo in questo momento abbiamo un periodo di negativo per il cambio euro franco e quindi positivo per il franco svizzero che addirittura va ben oltre il gennaio prossimo e quindi vediamo appunto che abbiamo di fronte a noi un periodo molto propizio storicamente molto propizio per il per il franco per il franco svizzero che quantomeno statisticamente potrebbe potrebbe assolutamente guadagnare terreno nei prossimi nelle prossime nei prossimi mesi nelle prossime settimane nei confronti appunto del del dell'euro quindi molto interessante per chi appunto guadagna come la maggior parte delle persone che stanno ascoltando questo webinar in franchi svizzeri e necessita appunto di cambiare del denaro una cosa molto interessante nel webinar di oggi che vi voglio anche far vedere è quello che nel mondo della finanza chiamiamo cot report che cos'è il cot report praticamente dovete sapere che il franco svizzero è uno strumento finanziario a tutti gli effetti che viene negoziato su appunto la borsa americana di chicago sotto forma di contratto future ora non sto a spiegarvi tecnicamente che cos'è un contratto future perché magari a voi non ve ne frega niente ma dovete sapere che ci sono aziende molto grosse che proprio per coprirsi sul rischio cambio magari come la nestle fa a un bilancio in franchi svizzeri vende però ovviamente anche in mercati stranieri anche nell'euro cosa fa con questo contratto future lo compre lo vende per fare in modo appunto che il si possa coprire da un rischio appunto di movimento del della valuta sottostante ecco la bella notizia ragazzi è che appunto all'interno del cot report che è un documento che settimanalmente viene redatto dalla cftc commission che è appunto l'ente che regola e diciamo controlla i mercati finanziari americani ogni settimana questo ente appunto pubblica questo report che si chiama appunto cot report dove vengono riportate appunto tutte le posizioni degli investitori istituzionali su tutti i future qui ho una pagina potete vedere una pagina dove troviamo l'elenco di tutti i contratti di tutti i contratti future e vediamo che appunto all'interno delle currencies quindi delle valute assieme al dollaro australiano alla sterline inglese al dollaro canadese eccetera eccetera troviamo anche appunto lo swiss franc questo ci fa capire appunto che ogni singolo movimento che viene fatto su questo contratto future viene registrato dalla commodity future in trading commission e settimanalmente appunto noi abbiamo un report che qui possiamo anche vedere che ci dice esattamente quanti sono gli investitori istituzionali che stanno comprando e vendendo franchi svizzeri cosa serve questa cosa in pratica e molto semplicemente serve a noi piccoli investitori per capire cosa stanno facendo i grossi e nello specifico sapere per esempio che nell'ultima settimana gli asset manager gli istituzionali e i leverage fund quindi le persone che muovono grandi capitali e gestiscono grandi capitali hanno incrementato le loro posizioni sul franco svizzero beh ci dà un'idea di quello che potrebbe effettivamente essere il trend futuro visto che queste persone che muovono grandissimi capitali tendenzialmente sono spesso dalla parte giusta del mercato nello specifico andare a vedere la foto quindi questa che state vedendo non è nient'altro che questa stessa tabella che sul sito della cftc viene appunto riportata come se fosse come se fossero ancora agli anni 70 viene riportata poi da questo sito che se volete potete anche andare a vedere si chiama tradingster.com molto semplicemente vengono riportati questi dati abbiamo i cambiamenti rispetto alla settimana precedente delle posizioni e molto semplicemente abbiamo un dato importantissimo ovvero abbiamo le posizioni nette le posizioni nette cosa sono sono molto semplicemente le posizioni tra diciamo chi è posizionato al rialzo quindi chi ha comprato franco svizzero e chi invece l'ha venduto che cosa è interessante vedere beh possiamo vedere che praticamente a partire dalla fine del 2022 abbiamo un trend positivo cosa significa un trend positivo significa che tendenzialmente i player che interessano a noi ovvero i leveraged money quelle persone che gestiscono e muovono veramente miliardi di dollari sui mercati beh è già da tanto tempo che stanno incrementando i franchi svizzeri all'interno del loro portfoglio e questo è un dato molto molto interessante perché perché se torniamo sul grafico e andiamo a vedere appunto il franco svizzero in questo caso abbiamo euro franco quindi vi ricordo ancora che siccome la prima valuta del cross del cambio è appunto l'euro significa che quando i prezzi scendono è il franco svizzero la seconda valuta che guadagna terreno beh noi abbiamo un trend ribassista confermato anche dalle posizioni degli istituzionali se aggiungiamo che come abbiamo visto utilizzando il forecaster appunto abbiamo una stagionalità come abbiamo visto qui per i prossimi mesi positiva per appunto il franco svizzero beh tutto mi lascia pensare come avevamo già detto anche nel webinar precedente che potremo vedere a breve dei minimi molto molto importanti per il per il cambio euro franco di conseguenza dei massimi storici ulteriori per il franco svizzero questa informazione chiaramente è molto utile perché se c'è qualcuno che avesse delle grosse cifre da cambiare potrebbe in virtù appunto di questi dati che abbiamo visto attendere magari qualche settimana o addirittura qualche mese chiaramente non vi sto dicendo di non andare a cambiare i soldi che vi servono per vivere ovviamente non vi sto dicendo di non andare più a far la spesa perché ci sono buone probabilità che il franco svizzero salga ulteriormente nelle prossime settimane però diciamo che abbiamo tanti elementi partendo dalla stagionalità arrivando poi fino appunto a questo cot report che è qualcosa di veramente veramente interessante che ci fa vedere appunto come i grossi della finanza le grandi banche i grossi capitalisti stanno davvero accumulando tanti tanti franchi svizzeri attenzione nonostante se andiamo a vedere questo grafico qui che rappresenta proprio l'andamento del future del franco svizzero vediamo che proprio in tutto l'ultimo periodo a partire appunto da luglio nonostante il prezzo del franco svizzero in questo caso è quotato contro il dollaro americano sia sceso in verità gli istituzionali hanno davvero incrementato tanto le loro posizioni quindi vuol dire che nonostante appunto per qualche mese i prezzi sono calati del franco svizzero contro il dollaro americano loro stanno davvero incrementando tanto forse anche questo è dovuto al fatto che il franco svizzero è un bene rifugio e come sappiamo in questo momento c'è una situazione drammatica che sta coinvolgendo più nazioni sul globo dove c'è una situazione di guerra ovviamente sto parlando della della dell'Ucraina coinvolta nel nel conflitto con la Russia e anche di Israele con Hamas e diciamo la Palestina più in generale e di conseguenza è un momento in cui l'investitore istituzionale sia dal della liquidità dove la mette la mette in una valuta che nella storia ha dimostrato di essere molto forte e soprattutto tenete presente che in questo momento il franco svizzero sta pagando anche degli interessi positivi quindi non solo abbiamo una valuta che storicamente si è rivelata forte che ha fatto guadagnare sostanzialmente chi l'ha tenuta in mano infatti so che tanti di voi magari una parte del loro stipendio non l'hanno addirittura mai cambiata da quando hanno iniziato a lavorare in Svizzera e questo li ha portati ad avere un un ottimo profitto ecco che gli investitori istituzionali fanno la stessa cosa quindi molto interessante in questo momento la situazione sul franco svizzero proprio perché come vediamo dal grafico se aggiungiamo la stagionalità e aggiungiamo questa informazione che deriva appunto dagli investitori istituzionali possiamo davvero pensare che potrebbero arrivare dei nuovi massimi per il franco svizzero se qualcuno avesse qualche domanda sono a disposizione vediamo se qualcuno di voi attraverso la chat ha qualche domanda vediamo un pochettino altrimenti io vi ricordo di andare a provare se volete anche voi in autonomia il tool che abbiamo inserito su cambiavalute punto ch così che possiate divertirvi insomma a capire quando è il momento giusto per cambiare se volete andate a dare un occhio anche a questo cot report che ve lo dico ragazzi è proprio un report ufficiale di quella che possiamo dire essere l'equivalente della consob in italia quindi proprio del regolatore che regola i mercati finanziari e vi faccio vedere questo dato molto molto interessante che appunto spiega che cos'è il cot report e questo report vedete che si chiama commitments of traders cot appunto serve ad aiutare il pubblico a capire le dinamiche di mercato quindi questo è un report che serve proprio a far capire alle persone cosa sta succedendo su un determinato mercato perché sale perché scende perché è salito perché è sceso ovviamente il motivo per cui un mercato sale che dietro ci sono degli acquisti per esempio ecco che con questo report possiamo capire effettivamente quelle che sono le dinamiche sottostanti a questi mercati finanziari che essendo regolamentati quindi i mercati dei future sono regolamentati ogni singolo contratto che passa è registrato dalla cftc noi possiamo capire esattamente cosa sta succedendo sul mercato quindi diciamo che con buone probabilità ci possiamo aspettare dei nuovi massimi storici per il franco svizio ragazzi non ci sono domande quindi io direi che vi lascio andare alla vostra pausa pranzo e ci vediamo il prossimo mese con un nuovo aggiornamento sempre sul cambio qui in questa nuova rubrica che si chiama market watch di cambiavalute punto ch grazie a tutti e alla prossima